Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Oggi vi faccio vedere tutti i miei dormitori all'inizio dalla terra che è comandato dall'orzio strano poi questo sistema musbero questo è un'unica del nome questo è un'acciaio e questa è la catapulta eccola funziona e poi c'è il popolo della foresta comandato dall'unica questo è un'unica del nome e coscienza e poi c'è il popolo del mare che ho comandato da Porn questo è un'unica del nome questa è la mista tatalica questo è Kratus e questi è a Colorn continuiamo con il popolo dell'aria comandato da Lottis e Jessica questo è un'unica del nome questo è un soldato dell'aria ma c'è il popolo del zuccar comandato da Magmior e Lavion questo è un'unica del nome neanche questo Questo è Sparalava Continuiamo con il popolo di ghiaccio comandato da Lord Frigion, Lord Frigion e Mimani E per ultimo il popolo di metallo con Betonius Neuntone Vevo dire Betonius Neuntone E ora vi faccio vedere le munizioni dentro il battle della script Come funziona questo allora? Si alza, si spara e si può fare i due nodi così? O a Gato? Come vi ho fatto i due ultimi? E poi ci sono le munizioni Questo è insomma Mammoth Vormita Titanium La palla rosa La roccia spinosa Poi ci sono tre rocce E due dati di fuoco Lo metto qua dentro E se non c'è il contenitore E adesso la vera soppresa Le carte Gorniti 3D Questo è Poi c'è il soldato dell'aria Due di Clashus Perché Lo metto in questo E io in quest'anno che vi ho trovato lì Quella di acqua log l'ho persa Come è il tuo piccolo, vedete? Un'altra domanda è un'altra domanda E quest'anno che vi ho trovato l'altra domanda E questo è giusto? E alla seconda di Clashus E la seconda di classi E il mio primo era lui. No. E per mio compleanno. Io ne avevo vecchi. Ne avevo vecchi, però io persi. Mi conta il nome di un gormita. Si chiamava Magor. Adesso Magor. Comunque, ci vediamo a un altro video. Ciao! Oh, e se volete iscrivervi al canale... Volete. Ma ora ci vediamo. Ciao! Ciao!